Ancora saluto da Maria Giuliacci, il tempo previsto all'incirca fino al 7 di dicembre. Finalmente arriva l'inverno, una fase invernale piuttosto lunga, non per tutti i 10 giorni, una fase invernale piuttosto lunga con freddo, gelo e anche neve, probabilmente anche in pianura. Ma vediamo l'evoluzione del tempo appunto fino al 7. Quattro fasi tra il 29 di novembre e il 1 di dicembre e la perturbazione. Giunta sabato interesserà ancora l'Italia col suo vortice di bassa pressione dapprima sulla Sardegna, poi sulla Sicilia e poi sulla Grecia, portando soprattutto nella giornata di domenica pioggi su Emilia, Romagna, regione del medio adriatico al sud, gelate nella giornata del 1 dicembre su tutto il centro nord. Una seconda fase inizia, una fase veramente invernale. Attenzione da seguire, perché tra il 2 e il 3 di dicembre non solo ci sarà freddo intenso, per venti freddi in arrivo da Balcani, ci saranno pioggi su Emilia, Romagna, forti sulla Romagna, pioggi su tutto il centro sud, forti sulla Campania, ma soprattutto ci sarà la neve. Nevicate fino a fondo valle, su tutte le regioni alpine, sull'entroterra Ligure e sull'appennino emiliano e romagnolo. Nevicate anche su rilievi abruzzese e malisane oltre 500-700 metri, ma la notizia di rilievo è che probabilmente le nevicate potranno interessare anche la pianura piemontese, forse quella dell'ovest della Lombardia, nevicate anche sulla pianura del Veneto più vicina a rilievi, ma non lungo le coste, nevicate è probabile anche nell'interno del centro, soprattutto sulla Toscana. Bene, quindi questa fase direi puramente invernale. Poi una terza fase tra il 4 e il 5 di dicembre, in cui un cuneo di alta pressione da Balcani si allunga verso soprattutto la Valpadana, la regione del Meglio Adriatico, e segue da sospingere venti gelidi da Balcani e sull'Italia. Quindi farà molto freddo, ma non ci saranno fenomeni rilievi, molto freddo perché ci saranno sia forti gelate al mattino, di notte al mattino su tutto il centro nord, sia perché ci saranno ancora venti piuttosto vivaci da Balcani, venti gelidi da Balcani su quasi tutta l'Italia. Poi avremo un'ultima fase tra il 6 e il 7 di dicembre, cessa la fase fredda, ma ancora una situazione direi che ci sta spesso in inverno, sia un vortice di bassa pressione generato da una perturbazione atlantica giunta dall'Inghilterra, un vortice centrato in prossimità della Sardegna, un vortice piuttosto profondo che sospingerà forti venti di scirocco su tutta l'Italia. Quindi tempo piovoso su tutta l'Italia e attenzione a questi venti intensi di scirocco che porteranno anche delle mareggiate. Bene, per quanto riguarda le temperature avrete capito che tra il 30 di novembre e il 2-3 di dicembre le temperature saranno in brusca discesa, quindi freddo intenso fino al 3-4, anche 5 di dicembre, dicevo sia per le gelate che per i venti freddi balcatici. E poi ovviamente il 6 e il 7 le temperature con eventi di scirocco riprenderanno a salire.